Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it Sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it Seguiamo la nostra conferenza stampa con le prime dichiarazioni sulla gara da parte dei corsi d'utavanti, prego È sempre difficile approcciare una serie, un quarto di finale che si preannuncia duro, intenso, equilibrato Dove noi abbiamo avuto la capacità, a dispetto dell'emergenza dell'ultima ora, siamo riusciti ad avere un buon approccio sulla partita Almeno dal punto di vista offensivo, salvo poi patire questo calo nel secondo quarto Dove Tortona ha giocato in velocità, è riuscito a attaccare con frequenza il ferro Ma l'intervallo è servito a riordinare un po' le nostre idee e a tornare in campo con un altro piglio decisivo Per cercare di incanalare la partita poi sui binari che devono essere per noi una sorta di marchio di fabbrica Grazie, domande? Grazie, buonasera Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it Sempre aggiornato 24 ore su 24 Sportpress.it